Stop dell'aumento a 67 anni delle di pensione dal 2019 per 15 categorie di lavori gravosi. Le 11 g fissate dall'ape social, tra cui maestre, infermieri turnisti, macchinisti e edili, e altre 4, agricoli, sidrurgici, marittimi e pescatori. Questa la proposta messa dal governo sul tavolo tecnico a Palazzo Chigi. Secondo quanto riferiscono i sindacati. Si tratta di una platea di 15 meno 20.000 persone. Per circa il 10% dei pensionamenti stimati per il 2019. Il tema delle pensioni è stato anche al centro delle audizioni sulla legge di bilancio che si sono svolte durante la giornata davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Banca Italia e Corte dei Conti hanno evidenziato la necessità di non far passi indietro sulle riforme fin qui portate avanti. Dello stesso avviso anche il presidente IMS Boeri. Che a margine di un convegno si detto contrario allo stop dell'aumento delle pensionabile. suggerendo piuttosto adeguamenti annuali. La proposta del governo e i requisiti al momento indicati dal governo al tavolo sono l'aver raggiunto i 36 anni di contributi e l'aver svolto la mansione gravosa per almeno 6 anni continuativi. Nell'arco degli ultimi 7, ma su questi requisiti, riferiscono gli stessi sindacati. Il governo ha mostrato delle aperture. Lo stop, sempre nella proposta del governo, varrebbe solo sull'adeguamento delle divecchiaia e non sugli scatti relativi all'anzianit contributiva. La proposta, sempre secondo quanto riferito dai sindacati, prevede una commissione con IMS, Istat, Inaili e Ministeri della Salute, del Lavoro e dell'Economia e forse anche i sindacati. Che lavori fino a giugno o anche settembre per calcolare le differenze nella speranza di vita in base al lavoro che si svolge. I sindacati, posizioni ancora distanti la proposta del governo per bloccare le dipensionamento non sufficiente, ha detto il segretario confederale della UIL Domenico Proietti. Al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dello stesso avviso il segretario confederale CGL, Roberto Ghiselli, siamo ancora su posizioni distanti. Se queste restano le condizioni non ci consentiranno neppure di rilanciare al tavolo delle trattativa. Ci auguriamo che le cose cambino. Ha detto, più ottimista il segretario confederale CISL, Gigi Petteni. Secondo il quale la proposta non sufficiente per un'intesa. Ma rispetto a ieri ci sono passi in avanti. Fino a quando la trattativa. Che difficile. Apertaci, speranza. Boeri. No stop aumento. Et non bisogna bloccare l'aumento delle dipensionamento legato all'aspettativa. Di vita ma piuttosto bisognerebbe fare cambiamenti annuali e non triennali in modo che. L'adeguamento sia graduale. Lo ha detto il presidente dell'Inps. Tito Boeri parlando a un convegno dei giovani imprenditori di confcommercio. Boeri si detto invece favorevole ad individuare lavori usuranti verificando le diverse speranze di. Vita in modo da sottrarli all'aumento delle. Si potrebbero pagare questi costi con contributi di solidariette. Boeri ha poi denunciato la poca trasparenza che ci è stata sui vitalizi dei politici. Definendola scandalosa è di fatto un assist al populismo. Sul tema pensioni dello stesso avviso anche il vice direttore generale di Banca Italia. Luigi Federico Signorini. Che oggi in audizione sulla legge di bilancio alle commissioni bilancio di Camera e Senato ha. Detto che nel lungo periodo la sostenibilità delle finanze pubbliche poggia. In larga misura. Sulle riforme pensionistiche introdotte in passato. Che assicurano una dinamica della spesa gestibile nonostante l'invecchiamento della popolazione. Importante non far passi indietro. Simile sul punto la posizione della Corte dei Conti per la quale ai fini della tutela degli equilibri di fondo della finanza pubblica e gli interventi al margine del sistema pensionistico devono essere disegnati in maniera tale da limitare la platea dei destinatari alle situazioni di effettivo disagio. Mentre il presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, ha sottolineato che il quadro di finanza pubblica evidenzia una programmazione di corto respiro che inficia la trasparenza dei conti pubblici non c'è la prevedibilite del quadro macroeconomico. Banca Italia. Esse aggiustamenti. Ma difendere sistema la necessite di mantenere. Preservare. Difendere l'equilibrio pensionistico di lungo periodo una priorità assoluta ha evidenziato. Signorini in audizione. Questo non vuol dire che non ci possono essere aggiustamenti su singoli casi ma l'importante preservare la stabilità complessiva ha precisato il vice direttore generale della Banca d'Italia. rispondendo alle domande di deputati e senatori nel corso dell'audizione sulla manovra. Le riforme del sistema, infatti, sono questione chiave nella valutazione dei conti pubblici. Nell'audizione Signorini ha evidenziato anche che l'economia italiana continua a migliorare. E che il quadro macroeconomico del governo per il prossimo anno si conferma condivisibile alla luce delle informazioni più recenti. Date le misure contenute nella manovra. Anche nel 2019 appare possibile conseguire una crescita non lontana da quella programmata. Sempre che non muti il quadro economico e finanziario internazionale. Pensioni. Corte Conti. Legare ritocchi a effettivi disagi simile. Sul fronte pensioni. La posizione della Corte dei Conti. Ai fini della tutela degli equilibri di fondo della finanza pubblica. Gli interventi al margine del sistema pensionistico devono essere disegnati in maniera tale da Limitare la platea dei destinatari alle situazioni di effettivo disagio. Anche per minimizzare gli ovvi effetti di frammentazione che finiscono per produrre ha detto il Presidente della Corte dei Conti Arturo Martucci di Scarfizzi. Sottolineando dall'altro lato che le misure. Come l'app e social. Vanno articolate nel modo più chiaro possibile per favorirne l'accelere implementazione. Il sole 24 ore da segnalare che l'obiettivo governativo nell'ambito del confronto tecnico-politico. Aperto ieri a Palazzo Chigi con i sindacati. Prevede l'esenzione dall'aumento delle di pensionamento a 67 anni. Dal 2019. Per una serie di categorie di lavoratori impegnati in attività gravose. Un elenco più ampio di quello attualmente previsto per l'app sociale e che potrebbe arrivare a includere tra i 15 e i 17 mila lavoratori l'anno comprendendo anche gli operai agricoli. I siderurgici e i marittimi. Alle viste. Per. Non ci nessun rinvio. Cos come chiesto invece dai sindacati e da un fronte politico bipartisan. Almeno per il momento. Della decisione amministrativa per rendere operativo l'adeguamento a 67 anni. A partire dal 1 gennaio 2019. Dei requisiti di pensionamento all'aspettativa di vita certificata dall'Istat. A Palazzo Madama. Per. Sono stati presentati emendamenti bipartisan al decreto fiscale da vari partiti. Pd in testa. Per rinviare di almeno sei mesi il decreto ministeriale direttoriale con cui entro il 31 dicembre. Di quest'anno dovrebbe essere dato formalmente il via all'aumento dei requisiti a partire dall'1 gennaio 2019. Manovra. UPB. Programmazione Conti di corto respiro Il presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio. Giuseppe Pisauro. In audizione sulla manovra di fronte alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Ha sottolineato dal canto suo che il quadro di finanza pubblica evidenzia una programmazione di corto respiro che inficia la trasparenza dei conti pubblici non c'è la prevedibilite del quadro. macroeconomico. Pisauro ha rilevato anche che l'evoluzione dei saldi di finanza pubblica legata alla clausola di salvaguardia, la cui credibilità risulta peraltro indebolita dai ripetuti interventi di parziale sterilizzazione. O rinvio. Questo anche se per l'Italia. Gli indicatori congiunturali confermano nella seconda mette del 2017 una fase di espansione dell'economia a ritmi relativamente più intensi di quelli ipotizzati in settembre. Nell'insieme, le stime dell'ufficio parlamentare di bilancio per il terzo e quarto trimestre rispettivamente più 0.5 e più 0.3%, condurrebbero ad una crescita reale del PIL 2017 pari all'1.5%, lievemente superiore alla previsione di settembre. Nel 2018, tenendo conto dell'effetto di trascinamento leggermente PIL favorevole nella seconda mette di quest'anno ha aggiunto Pisauro l'incremento del PIL potrebbe attestarsi all'1.3 a 1.4%, UPB, REI aiuta ma non libera da povert bene il REI che diventa davvero universale ma non cambia i numeri dei poveri. I poveri restano gli stessi ma sono meno poveri. Ha detto poi il presidente UPB Pisauro parlando del reddito di inclusione sociale. Pisauro ha spiegato che l'assegno diretto al 44% della platea dei poveri assoluti registrati dall'Istat nel 2016 che per con l'assegno non escono dalla soglia della povert. Anche se la loro situazione migliora. Il poverty gap, cio la distanza media dalla soglia, passerebbe aggiunto da 20.7 punti a 10.9, riducendosi di circa 10 punti. Banc'Italia, rischi da copertura e lotta evasione la Banca d'Italia condivide le priorite della legge di bilancio. Date dal governo al lavoro giovanile. Al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici e agli incentivi a favore degli investimenti. delle imprese. In audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Il vice direttore generale, Luigi Federico Signorini, giudica tutte e tre le misure ragionevoli. Signorini ha anche spiegato che anche se dalle misure di contrasto all'evasione contenute nella manovra ragionevole a tendersi effetti positivi. Tuttavia la stima di tali effetti resta per forza di cose incerta. Infatti basare una quota significativa delle coperture su tali introiti, come avviene per gli anni successivi al 2018, comporta un elemento di rischio. In certezza da stoppiva solo uno o non è solo. Ad essere stigmatizzata anche la mancata adozione di misure strutturali per disinnescare le clausole di salvaguardia. Come in passato si scelto di non cancellare definitivamente le clausole di salvaguardia. Ma di farlo solo per uno anno. E se ha sottolineato Signorini riducono di fatto l'orizzonte di programmazione della politica di bilancio, idealmente l'adozione, al loro posto, di provvedimenti percepiti come permanenti ridurrebbe l'incertezza tanto sui saldi della finanza pubblica quanto sulle forme di tassazione, in quanto la prevedibilità importante per imprese, cittadini, mercati, ANCI, necessarie 200 milioni di risorse aggiuntive e il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, ha spiegato davanti alle commissioni bilancio che nelle more di un auspicato riordino delle entrate proprie e della determinazione di nuovi fabbisogni standard, l'Associazione dei Comuni stima che le risorse aggiuntive necessarie ammontino ad almeno 200 milioni di euro. De Caro ha spiegato che gli oneri per il rinnovo dei contratti del personale, gli effetti restrittivi della nuova Contabilit, l'alto costo del debito, il prolungato congelamento dell'autonomia tributaria locale ed il progressivo avvio della, per equazione, sono i principali elementi che concorrono a determinare una forte sofferenza negli equilibri finanziari di parte corrente, sui quali chiediamo soluzioni coerenti. Il presidente ha quindi chiesto la stabilizzazione del fondo i mutasi, essenziale per i bilanci di circa 1.800 enti, e ha denunciato la situazione molto grave dei comuni in Sicilia, ulteriormente aggravata ha detto De Caro dalle recenti decisioni regionali di revisione della governance delle province e delle Cite metropolitane. Che ha comportato un inaspettato commissariamento delle tre Cite metropolitane. Altro su MSN. Pensioni. Da governo stop quota 67 per 15 lavori gravosi. ANSA. Riproduci nuovamente video. Al Sisi. Vogliamo scoprire killer regini presidente Egitto. End cancelletto 39. Stiamo agendo in maniera trasparente con Roma end cancelletto 39. ANSA. Senatori PD. Approvare legge IUS soli end quote. Bisogna riuscire a trovare i numeri in aula end quote. ANSA. ANP pronta a controllare sicurezza e gazzaresta nodo. Milizie armate. Israele chiude zona attorno striscia ANSA. IMPOS TA ZION E NON attivo. HD HQSDLO.